E allora sto con un sacre, voi parlate così mazzagate, e la ragione si sa qui. La ragione che voi sta sentite, la mellate io si era torretto, quella carta di bianco vestita, che chiamate con nome e concetta, la chiamate facesse sorrisa, e mamma mia lo dirai lo sciomistocco. E' il tiranto che mette il contrasto, è bisogno di un contrasto. A questo tasto bisogna tornare, infelice, cantarmi così, se sapete che vengo a narrare, rimarreste di sasso e qui, già che noi ci troviamo da narrare, finirò l'altro giorno mamma, fingo a ciò che è postata a facciare, per lavate a Rusella in la... E chi è Rusella? A come è la Cristina? E chi è Cristina? A bagnale Carmela? E mamma dove stava? A cucina? Oh, quant'avecone la cattina? E già, la gente per forza maggiore? E signorino faccio un favore, di armare maghi, se l'oglio mi piasco, è bisogno di un tasto. A tutti. Pianto a voglio noi, se l'oglio, am 이거는 è bellissimo, a tutti prezziato. La giaccate? Ah, volete ragione? Sì, signora, così volte va, voglio stare accacciato al balcone e non so oggi passare. Divertite, assasino che siete, tu calma, perché vola un dio? Perché, signor, il primo avviso faccio una propria ufuria. L'hai passato e lo dite ridendo? Non sia così, non diceva piangendo, è piangendo, puoi vedere il contrasto, è piangendo tutto il contrasto.